Manca poco, pochissimo per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, parte terza, solo l'annuncio ufficiale. Ma questa volta non più come attaccante o come giocatore in grado di trascinare la squadra dentro al campo, ma fuori. Perché da quello che abbiamo capito, l'accordo che è stato trovato martedì scorso nell'incontro con Cardinale non prevede l'inserimento, almeno al momento, nell'organigramma societario del Milan. Quale sarà il ruolo di Zlatan Ibrahimovic? Sarà quello di superconsulente esterno, lavorerà a stretto contatto sì con la squadra, avrà un confronto quotidiano anche con i dirigenti, inizierà a capire quelle che sono anche le dinamiche della vita da dirigente, ma soprattutto sarà una figura di rilievo soprattutto nelle dinamiche del mondo Redbird, di tutte le attività Redbird, a special concert, come dicono gli americani. Ibrahimovic è rimasto molto attratto da questo progetto e il Milan spera che il suo carismo, la sua voglia di mettersi in gioco anche in un altro ruolo, possa portare dei benefici anche alla squadra che ha bisogno di rivedere anche più spesso un leader come Zlatan. Grazie a tutti.